Mi sono Michel Cardito del Movimento della Crescita Felice Siamo qui alla Ex Lavanderia a Montemario, a Roma in uno spazio occupato e restituito alla cittadinanza del bene comune appare una scuola che si chiama Scuola di Rete di Reti che si chiama Quale Sostenibilità per Quale Comunità? Siamo qua con i partecipanti alla scuola e dei referenti delle principali associazioni che si stanno occupando di sostenibilità e comunità in questo momento in Italia Una sede di comunità è un insieme di persone che sono in grado di darsi una mala vicenda quindi che rendono le persone meno sole, in grado di poter contare gli uni sugli altri per la soddisfazione dei bisogni infatti purtroppo in questo momento tutti i nostri bisogni dipendono dal mercato invece come movimento cerchiamo di creare delle comunità che possano soddisfare i bisogni attraverso lo scambio tra di loro e non necessariamente attraverso il mercato quindi meno sole e più soddisfatto di sé abbiamo avuto modo di ascoltare le altre e di confrontarci con loro su come formare comunità cosa possono fare le comunità se le comunità possono trasformare questa società e siamo qua per capire come dare una risposta a questo desiderio e questo bisogno si sente fortemente nella società questo bisogno e pensiamo che le comunità siano le chiavi della prossima rivoluzione comunità interdipendenti tra di loro, non chiuse, comunità aperte che si possano conoscere tra di loro a faccia a faccia ma che possano interscambiarsi tra di loro, avere rapporti tra di loro e prendere decisioni insieme questo sarà il primo passo per un nuovo tipo di società, speriamo grazie a tutti